No, beh, allora, che non lasciano vuoti normativi, questo è da vedere dopo la sentenza, perché poi oggettivamente... No, è impossibile, senatore. Vediamo poi in che termini potrà essere auto-applicativa. Sicuramente, quello che ci auguriamo, e questo è innegabile, un augurio si può fare, è che ne esca un sistema elettorale che possa già stare in piedi da solo. Dopodiché, se va aggiustato, migliorato, qualche cosa, però, un sistema che consenta agli italiani di poter andare alle elezioni. Noi ci auguriamo domattina, ma comunque non è caso, dopo domani, va bene, ma subito. Quello che temo è che venga fuori invece qualcosa che sarà opportunità per chi in Parlamento non vuole andare al voto per cominciare a dire modifichiamo questo, modifichiamo quell'altro, aggiungiamo, togliamo e si allunga il brodo. E quello che non possiamo permetterci è di rimanere i prossimi 12 mesi in una campagna elettorale costante, con francamente un governo che è lì in attesa di scadere, non in attesa di fare, in attesa di scadere. Occorre un mandato popolare forte. Anche se Gentiloni ha detto, lo ricordiamo, lavoriamo come se dovessimo durare a lungo. La quantità del girare che fa il lavoro e la qualità del lavoro che ne esce. E questo è chiaro che è un Parlamento ormai che è in scadenza, anche nel contenuto della maggioranza, cioè minimi livelli e motore al minimo dei giri, perché sennò qualcuno non rischia di andare fuori strale.